...sforma, ma torna indietro col tempo? Sì, no, non potrei che torna indietro col tempo, io direi che andiamo a mano. Solo torniamo col tempo, come se non chiedono, in qualche modo, figli studiosi e operatori, se vuoi, di più bassa, di più bassi, che comunque si potranno vedere della valorizzazione, delle bellezze di Galamia, che ha incominciato dalla Santa Caterina, in realtà rappresenta un momento di studio e di approfondimento per dimostrare ancora una volta, ove mai ce ne fosse bisogno, perché credo che, in generale, le bellezze culturali di Galamia siano ovviamente note, purtroppo, solo, sicuramente, agli operatori del settore, agli pubblici, eccetera. L'intento è quello di ampliare ancora la conoscenza delle bellezze culturali di Galamia e soprattutto, e lo ritengo, lo riteniamo, passo in avanti per, diciamo, inserire la Basilica di Santa Caterina nell'ambito del patrimonio demonisco. È un processo che viene già in corso, già in atto, e credo che sarebbe la consacrazione migliore di un bene culturale che, veramente, al di là della storia e delle bellezze artistiche, rappresenta veramente l'incontro tra due culture, l'Oriente e l'Occidente, non a caso nella brochure informativa si parla di un contro tra l'Oriente e l'Occidente. La Basilica di Santa Caterina rappresenta realmente, diciamo, un esempio vivente, perché vive la Basilica di Santa Caterina, un esempio artistico, culturale, vittorico, di unione tra un'Oriente e l'Occidente. Grazie.